Buongiorno e benvenuti su MeteoGiuliacci.it. Oggi sabato 12 gennaio, tempo in parziale miglioramento sull'Italia perché avremo le regioni meridionali che saranno ancora interessate dalla coda della perturbazione numero 3 che si allontanerà nella mattinata. Ma sulle regioni centrosottentrionali dal pomeriggio sera si farà strada la parte più avanzata della perturbazione numero 4 del mese di gennaio che poi ci interesserà nella giornata di sabato e di domenica. Ma andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete ancora le nuvole che insistono sulle estreme regioni meridionali, poi per il resto un'Italia quasi interamente sgombra dalle nuvole, però osservate sulla Francia la perturbazione numero 4 che si avvicinerà e che ci interesserà poi a partire dalla serata. Per quanto riguarda quindi la previsione per la giornata odierna, segnaliamo le ultime piogge sulle estreme regioni meridionali che si esauriranno già nel corso della mattinata. Poi per il resto inizieremo con condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta l'Italia, centro settentrionale, sulla Sardegna, poi nel corso del pomeriggio aumenteranno le nuvole. Nella mappa è indicata la previsione per la serata quando avremo cielo molto nuvoloso coperto su tutto il centro nord con qualche pioggia sul Levante Ligure e sul Basso Piemonte. Per quanto riguarda le temperature queste saranno ancora stazionarie e su valori per lo più compresi tra 5 e 7 gradi al nord, tra 8 e 12 gradi al centro e tra 12 e 16 gradi al sud solo due isole maggiori. Concludo qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.